La differenza sessuale è costitutiva e inalgirabile, sta nelle zone profonde della propria fatticità e media in modo decisivo il nostro essere al mondo. Il volume offre ai lettori i contributi presentati in occasione del secondo seminario della ricerca giovani, affetti e identità. Nel primo seminario c'eravamo soffermati più su aspetti di carattere generale. Questo secondo è dedicato nello specifico al tema della differenza sessuale. Uomo e donna, il senso della differenza sessuale. Verranno presentati i contributi da prospettive teoriche differenti, filosofica, teologica e psicologica. Per la natura accademica dei contributi presentati il volume si rivolge principalmente agli studiosi sul tema. Non è tuttavia una trattazione sistematica. Tutti coloro che sono interessati al tema potranno trovare spunti di riflessione, educatori, insegnanti, persone che lavorano con i giovani. Per la natura accademica dei contributi presentati i contributi presentati a cura di